Ciao a tutti! Incomincio applicando il correttore, questo di MAC, successivamente applico il mio solito con le tinte di Pupa, poi un velo di cipria, quella di Inglot, poi farò un leggero contouring con una terra di Kiko e applicherò un velo di blush sulle guance di un cucanetto che mi ha regalato mia mamma. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Mi si dimentica di dire che applico anche l'illuminante, questo è Soft and Gentle di MAC. E' dato il momento di definire e disegnare le sopracciglia. Qui sto applicando un ombretto color marroncino, l'ho preso dalla Naked 1. Poi successivamente applicherò un ombretto nero che prenderò dalla Naked 2. Disegno una linea sottile all'attaccatura delle ciglia. Poi successivamente vado a sfumare questa linea con un pennellino piccolo e creo una linguetta alla fine dell'occhio. Piego le mie ciglia ed applico il mascara sia sull'acqua che sull'acqua che sull'acqua. sulle ciglia superiori che sulle inferiori. In questo momento sto applicando nell'angolo interno del mio occhio un color metallizzato champagne. Poi vado ad applicare le mie ciglia finte. Questo lucide labbra lo davo in regalo insieme alla Naked 2. Io lo trovo buonissimo, ha un sapore, non lo so, non so come spiegarlo, sembra caramellato, non so, buonissimo. E sembra che riempia le labbra, lucidissimo e lo adoro. Ora passiamo ai capelli. Io ce li ho mossi, così come vedete, ho un riccio abbastanza smollo. Quindi vado a riempire i miei ricci dietando un po' di boccoli. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ecco fatto, sono pronta. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Un bacione enorme e al prossimo video. Ciao! Come avete letto dal titolo, finalmente è un breakable day! Yeah! Chiaccheremo un pochino. È da quest'estate che non faccio questo video. E mi dispiace un po' perché so che a tantissime ragazze piace. Grazie a tutti. Grazie.